no 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 è un problema pubblicarla è un problema se la metti tutta se questa registra la metto un attimo che ci vuole questo è me buono occhio grazie grazie sì ma difesa ho tezzino il bc sempre in difesa perché è pure su no questi come sono i ragazzi sono forti ma che fa il seggio deve prendere picciotto e vabbè dai stiamo attenti non li facciamo tirare allora sì vi c'è troppo tardi sì 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 era zoro pure piggiotti che cazzo, attenzione è vero per dai no, madonna che culo questa fattoria e portere già stiamo partendo ecco, bravo no, che è? oh, madonna, porco dio brava portiere ma l'ho capito, quindi il portiere non si può usare no no, ma neanche perché non lo possiamo comandare ecco, non è così, tiriamo là sotto vedete, meglio e nella linea fino no, ma è di figlio questa partita no eh, lo so, c'hai ragione sì, la spara, è sempre stagliam bravi bravi va bene va bene bravo dovoljmo spazzane na tlota ma bene mamma come è venuto il brivido guarda oh c'è bloccato ragazzi sa poi anche eh sì eh saranno ecco eh anche a me ora si ora si vicciotti va bene va bene era solo vicciotti se si 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 va bene io ogni tanto ma quando vedo che magari azione è troppo che attaccano al centro io mi accentro un po' ok va bene no ho capito eh c'è una linea ok da vabbessimo da pochissima spazzare è meivo cazzo va bene 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 è va bene 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 bello bello va bene 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 l'ho fatto questo io che per play vai sto noo noo ma che fa quello Saliamo nella linea. Lasciate la posto. Salmo nella linea. è usato, 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 regà spazzate no, appoggia eh, lo so, ma il problema è che se perdiamo palla, regà, è normale che io vado addosso per pressarlo, poi perdiamo palla non è gogliano è così 1 a 1 eh, lo so, ma io sto ad attaccare, regà, che devo fare? Devo stare fermo a pallatore non attacco chi attacca, fammi capire eh, non hai capito io devo, l'attaccante che mi viene addosso o cosa, ci devo andare addosso o no? o devo guardare da lontano? grazie a tutti grazie a tutti ah, il mio è pure morto del giocatore ah, ma c'è una sinistra solo ha sbagliato, ha sbagliato oh, ma c'è uno che sta laggando sinistro ora è entrato bravo, grì oh, no, no oh, buttà via, buttà via, bravo eh, ah, guarda, il giocatore è mi arrivato, non fa mai capire ah, bene ah, bene ah, guarda ah, guarda ah, guarda ah, guarda ah 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 Grazie. Non è finito. Non è finito. Vabbè, che devo fare quindi? Non è finito. 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 Non è finito.